Nasce in Toscana un nuovo centro di eccellenza per lo sviluppo di applicazioni digitali avanzate per l'industria, quanto scritto nel protocollo di intesa siglato a Firenze da Regione G.E.O.L.I.N. Gas e Scuola Superiore Sant'Anna. Un accordo sancito con l'obiettivo di realizzare per i grandi gruppi industriali della Toscana prototipi digitali in grado di fornire applicazioni e informazioni utili alla crescita della produttività e della competitività, strumenti indispensabili per stare sul mercato e sostenere l'economia locale. Si è messo insieme l'impresa, la ricerca e la formazione con le istituzioni, cioè le istituzioni che appunto si fanno facilitatore dei rapporti fra l'impresa, l'università e la ricerca. Per innovare, per il trasferimento tecnologico, per quella forza propulsiva di innovazione che molto spesso si dice che manchi sia al mondo della ricerca e dell'università sia al mondo dell'impresa. A disposizione degli obiettivi del progetto comune, G.E.O.L.I.N. Gas metterà a disposizione anche la piattaforma Predix creata dalla multinazionale per costruire applicazioni e soluzioni industriali. Il mondo di oggi genera tutti i giorni migliaia, milioni di dati in quello che facciamo, negli impianti industriali, nelle organizzazioni. Ecco, questo sistema qui raccoglie questi dati, li elabora con una certa intelligenza e fornisce ai gestori le informazioni per prendere decisioni giuste e quindi creare produttività, ottimizzare e fare quello che un paese moderno è giusto che faccia. Ritengo per l'istituto che dirigo sia un'opportunità estremamente interessante in quanto molte delle competenze dell'istituto sono relative appunto a machine learning sistemi artificialmente intelligenti come vengono definiti quindi che hanno una forte componente di intelligenza artificiale e controllo digitale e anche la possibilità di poter andare ad analizzare nel futuro, sviluppare nel futuro nuove metodologie per il controllo di cicli produttivi. Altra sfida del nuovo centro di eccellenza toscano sarà quella di formare i talenti, quei nativi digitali che attraverso lo sviluppo di nuove competenze specifiche in ambito industriale potranno trasformarsi nella nuova classe digitale toscana, una classe in grado di operare in maniera trasversale in tutti i settori dell'industria.